E questa era la Bush con Sweet Dreams, alle 7.35 minuti qui su Crystal Radio. Gli eventi della settimana a cui io non andrei! Ebbene sì, Eri B, benvenuta! Mi hai preso in giro, mi hai messo un altro tappetino. No, è sempre quello. No, adesso. No, no, è la versione più jazz. Ah, ok, va bene. Buongiorno a tutti. Senti, eh. D'aiuto! Il leone? E vedere? Scosto l'effetto che fa. Vengo anch'io? No, tu no. No, io no. Ah, ok. No, io sicuramente no. Ok. E allora, gli eventi della settimana a cui non andrei! Allora, allora, buongiorno a tutti. Come sempre ti ringrazio per darmi questo spazio all'interno della tua trasmissione. Prego, Eri B. Ok, ho temuto che questa settimana non si facesse questo spazio perché febbre ti colse. Eh, febbre ti colse, l'aspirina mi salvò. Ecco, bravissimo. A me mi ammazzerebbe. Ricordiamo infatti che Eri B è allergica al principio attivo dell'aspirina. Che sai qual è? Posso dirlo? Perché è una bella parola. No, non so quale sia. È l'acetilsalicilico. Acetilsalicilico. Sì, ok. A me hai imparato qualcosa di nuovo. Sì, volevo dirti questa cosa. Allora, molti non sanno... Ho fatto una domanda prima di andare in pausa per la pubblicità. Scusa, non stavo ascoltando. Ma lo sapevo. Cosa faranno il weekend i nostri ascoltatori? Allora, Nello andrà con l'e-bike sui percorsi urbani in giro per la città. Bravo, Nello. Complimenti. Invece, Alberto dice, sì, guarda che questi percorsi urbani sterrati ci sono anche tra Barona, Bucinasco e D'Assago. Ci sono dei bellissimi ciclo turistici tra i campi del Parco Sud. Sì. Tu conosci bene quella zona. Io conosco molto bene quella zona lì perché ci lavoro. Ah no, io pensavo di quello che hai fatto sabato scorso. Ah no, sabato scorso sono andata a fare una cosa che non avrei mai pensato di andare a fare. Tra l'altro è organizzata da me, proprio c'è la coerenza alle volte. Sono andata a fare per la prima volta una cena con delitto. Oh, vedi. Quindi l'unica roba che tu conosci della zona dove ci sono i ciclo turistici è un ristorante. Sì, è un ristorante che tra l'altro fa una roba interessante e secondo me ad Alberto potrebbe anche interessare. Alberto segna? È l'Oliucanit di Bolliti. L'Oliucanit di Bolliti? Sì, sì. Non mi ricordo, si chiama tipo ristorante La Risaia. Vabbè, l'ho detto. Tanto se cercate cena con delitto viene fuori. Ok, comunque è lì nella zona tra Barona e Bucinasco. Praticamente tra Barona, dietro tre castelli. Ok, non è Cantalupa quello però. No, 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 no. Cantalupa è da un'altra parte. È da un'altra parte perché sotto Famagosta era quella parte là. Sì, sì, sì. Benissimo. Allora, volevo dirmi questa cosa. Ah, ci ho avuto un altro Whatsapp su cosa? Scusa, stanno facendo Whatsapp. Vai, vai, vai. Su cosa fanno nel weekend. Cosa fanno? Buongiorno da Quella di Bergamo. Io questa domenica farò qualcosa di particolare. Wow. Al quale non sono abituata. Uno shooting fotografico piuttosto serio. Infatti sto già preparando le borse con vestiti e accessori. Wow. Non so se potevo leggere questo messaggio a quest'ora. Vabbè, sì, assolutamente. Posso dire che cosa vado a fare gli oggi? Dipende cosa vuol dire shooting fotografico. No, proprio piuttosto serio. Piuttosto serio. Sì, no, ok, finiva bene. Però poi mi viene da fare delle domande. Perché fai uno shooting fotografico? Poi le foto te le metti in casa? Non so, magari servono per qualcos'altro. Non so, adesso ci lo incontreranno. Corte della risaia, dice Alberto. Ah, bravissimo. Dito in su, pollice in su, quindi conosce ovviamente. E beh, vuoi mettere il bolliti, subito l'hanno attirato. Corte della risaia, bravissimo, bravissimo, assolutamente. E invece anche tu oggi dove vai? Sì, oggi vado a fare una cosa che non avrei mai pensato di fare nella vita, ma sono obbligata a farlo. Vabbè, gli esami del sangue. No, vado a fare un team building. Una ciumbia. Di orientering nei boschi. Hai saputo che si dice orientering? Io non orientering. Non lo so, io lo dico così. Credo si dica orientering. Che me frega. Tanto chi è che mi corregge? Tanto dove lo fate? A sesto calende. Quindi si dirà, vado e chi va de là. Comunque spero di perdermi e finire lì la mia team building. Ciao, raga, è stato bello. E quindi niente, è stato bello conoscerti. Infatti vedete, per chi ci vede sono tenuta sportiva. Ah, non sei moschino. Pensavo fosse un vestito moschino oggi. Comunque, torniamo a bomba. Gli eventi della settimana a cui io non andrei. nasce in questo momento. È vero, buon compleanno, Eribi. Anni e anni. Grazie mille, grazie mille. Oggi compio X anni. La tua rubrica nasce oggi. Sì, la mia rubrica nasce con il fastidio. Cioè, di base è questo. Per chi non lo sapesse, io sono nata e cresciuta in zona Navigli. E ora vivo in periferia. Come dice il mio medico di base. E diciamo che le prime installazioni del fuori salone e i primi disagi veri del fuori salone nascono tra Porta Genova e Via Tortona. Quando Via Tortona aveva ancora il ponte. Quindi diciamo che era veramente complicato e io lo penso tuttora. Quindi il fastidio per gli eventi a cui io non andrei chiaramente nasce da qua. Sì, io credo almeno un 15 anni fa. Quindi 15 anni fa tu hai cominciato a dire basta agli eventi. Sì, stop. Stop, dimentica. E quindi nasce la tua rubrica, la tua idea di fastidio verso gli eventi a cui io non voglio andare nasce proprio con il fuori salone. Quindi tanti auguri. Grazie, grazie. Sono molto contenta della mia coerenza. Buona genesi. Grazie. Infatti per questi eventi della settimana a cui io non andrei sono tutti eventi chiaramente alla prossima settimana. Anche Alberto manda gli auguri via Whatsapp. Grazie, grazie mille. Pacche sulle spalle. Il primo che ti vorrei raccontare, sapete che insomma il fuori salone, vabbè il salone è una cosa importante. Cioè ce ne sono tantissime di fiere, bellissime. E restano dentro la fiera. Qua si ha la necessità di fare delle cose di dubbio gusto fuori dalla città, fuori dalla fiera, quindi in città. Tra l'altro adesso super mega Brera, sta andando tantissimo. Vabbè Tortona questo è ovvio, ma è giusto che la genesi è lì, quindi va bene così. No, lo Lambrate. Io sono quasi contenta che su San Siro, almeno io non ho visto quasi niente. ma potrebbe metterne una sotto. Vabbè, vi racconto la prima. Allora, dal 15 al 21 in zona Tortona appunto, ne ho scelta una tra tante. Il Giardino dell'Ottium. Ottium. Ma tu hai visto quanti eventi sono? Sì, lo so, infatti, devo dire la verità che mi sono anche un po' persa. 1032 eventi. Infatti ho detto, vabbè, faccio quelli che più mi interessano. In una settimana. Ok, Giardino dell'Ottium. Di che cosa parlerà, secondo te? Del non fare niente. Esatto. Ispirata all'antica Roma, celebra la capacità rigenerativa del prendersi del tempo per sé. Raga, ma lo sapevamo. C'era bisogno di fare un'installazione. Cioè, a me questo è l'ovvio che mi dà un po' fastidio. Ah, ok. L'ovvietà. Sì, 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 assolutamente. Quindi, i giardini vanno per la maggiore. Ok. Perché poi c'è anche il Giardino delle Dei di Vanity Fair. Ne sentivamo sicuramente il bisogno. Al Chiostro del Museo del Diocesano in Corsa di Porta Ticidese nel 1995 ci sarà una mostra laboratorio sulla nuova creatività responsabile. Ok? Gratuita con registrazione il 16 e 17 nel pomeriggio. Dal 18 al 21, dalle 11 alle 21. Tu ci andrai sicuramente. Guarda, non andrei a nulla. Guarda, la creatività responsabile è proprio quello che ti senti più cucito addosso, secondo me. Va bene. Poi? No, perché devo dire che sono anche io molto polemico al fuori salone. Adesso sto guardando la mappa degli eventi. Ci sono i pallini gialli sulla mappa di Milano, no? Di Willy 32 e 20 appunto. Ci sono pallini dove se tu clicchi, sono sul zoom totale della città di Milano, quindi ci sono pallini con più eventi dentro. Ci sono pallini in zona centrale con scritto 84, 43, 36, La cosa che mi fa abbastanza sorridere è che praticamente è tutto all'interno della circombarazione. Sì, sì. Fuori c'è pochissima roba. Sono due o tre pallini di cui uno a Ro, perché vabbè, molti venti vicino alla fine, no, scusa, uno sì, uno a Cascina Merlata, vabbè, uno lontano, lontano su Palmanova e uno a Segrate. Se no, è tutto praticamente dentro la circombarazione c'è qualcosa intorno a Corsolodi, ma pochissima roba, tutto concentrato. Sì, perché vogliamo congestionare per bene la città, ma è giusto così, ci piace a noi, a noi amici del design, ci piace da morire. Io vorrei prendere un architetto che quindi vive di design, vorrei capire se effettivamente si fa qualche vent'anni nel fuori salone. E dove farli per PR, credo, dove pubblicare relazioni. Mamma ragazza, meno male che ho studiato tutt'altro, guarda. Comunque, il terzo che mi interessava è in Biagluc, quindi stazione centrale appunto, spazi intimi, visioni, sospese tra architettura e design. Bello. Ma cosa vuol dire? Cioè, io veramente, io faccio fatica a questo. E là dove c'era l'erba, ora c'è il cemento. Poi vabbè, la statale viene invasa da installazioni. Io sono stato in statale venire di scorso per girare un'intervista e c'era già tutto che stavano montando. Ah, un tempo lavoravo in centro, era bello perché andavi a vedere il famoso anno delle scimmie colorate. Sì. ok, che è iconico, è rimasto quello. Però, voglio dire, poi sono state lumache anche, mi sembra. Voglio dire, sti ragazzi che sono lì a studiare, secondo te, a loro, gli ne frega qualcosa? Beh, credo di sì, nel senso, saranno anche contenti, no? Nessuno di loro studia architettura, non gli ne frega niente. Come, non c'è architettura in statale? No, è il Politecnico. Ah, ok. Ciao, mi chiamo. Beh, ma ci sarà qualcosa, il design della comunicazione, quelle cose lì, Quella poi tengo che guarda. Comunque, ci sono anche aziende che, adesso stavo guardando su Instagram, Andrea Kerchi ha pubblicato un palazzo con delle nuvolette. Eh, bello. Cioè, vabbè, non so. Però, vabbè, comunque, questo è il mio pensiero. Vi lascio con l'ultimo evento, a cui io vorrei andare perché il titolo è molto bello. Ah, ok? Intanto si trova la solumeria del design, ti regalano pure un panino, se vai alle 19 e fai l'aperitivo. Un panino ce lo regalano. Ok. Ok? La solumeria del design, perché guarda la musica non c'è più. No. Si chiama Fuori Salume. Secondo me hanno indovinato. Giovedì 18, alle 18 e 30, fanno questo aperitivo, dove chiaramente ci sono taglieri di salami, di salumi, e ti regalano un panino. Vabbè, è solo per quello ci vogliamo andare. Sì, perché secondo me il titolo funziona. Ok, sì. Complimenti al Fuori Salume. Sì, esatto, esatto. Tu sei mai andato a fare qualche evento del Fuori Salume? Ma è ovvio che sì, cioè dico di no, ma poi ovviamente durante i miei 30 anni, cioè quando avevo 30 anni, di epoche fa. Quando avevo 30 anni, sì. Cioè quando io iniziavo ad avere il fastidio. Io ero lì che ti davo fastidio, molto probabilmente. Sì, molto probabilmente sì, io non ho mai veramente amato questa roba, avevo delle amiche che erano molto interessate a queste cose, ma mi sono tolto via. Mi ricordo una via Savona, completamente chiusa al traffico, con delle varie isole che spillavano birre, cose del genere. Allora, però l'unica cosa che apprezzo di... Ho fatto in tempo a fare un Fuori Salone anche la stacca degli artigiani, la vecchia stacca degli artigiani, sì, sì, sì. No, l'unica cosa che apprezzo realmente di questa settimana del design, eccetera, eccetera, che è una wick. Sì. Quindi è coerente, nel senso che... Ah, è una delle poche wick che dura una wick. Sì, allora questa fa 15-21 il Fuori Salone, il Salone è 16-21, però voglio dire, quantomeno sono wick vere e non tre giorni. Sì, quello sì. Perché mi viene voglia di scaffeggiare, se sono solo tre giorni e mi la chiami wick. Anche meno violenza, però adesso vede tutto. Vabbè. Possono chiamarla come voglia, ma poi sta a te. Ma sì, ma raga, ma io non sono una bulla veramente, cioè, insomma, sono una brava persona. Sono cose diverse dai tuoi amici, quindi va bene. Comunque, invece vorrei fare un po' di hype su questi eventi, se uno è di fuori Milano. Se uno è di fuori Milano, secondo me ci può anche stare a venire. Ma tu vuoi dire che fuori salone significa che sei fuori Milano? No, sei fuori dal salone. Ah, non è perché devi venire da fuori Milano per apprezzarli. però secondo me tantissima gente di fuori dice, oh, andiamo a Milano, che ci sono installazioni del fuori salone. Scusa, parlano così. ha fatto il monzese. Ah, il monzese parla così. Ok, credo sia un po' razzista come cosa, però va bene. Però le mie amiche giandugliotte, cioè le amiche di... Perché giandugliotte vuol dire che arrivano dal Piemonte o da Torino. Le piemontesi sono gasatissime a cannone, perché fanno vedere una roba figa della città dove vivono e dove stanno. Cioè, tu sei riuscita in un attimo a insultare quelli di Monza e quelli del Piemonte, così, in un attimo. Ma sì, ma potete insultarmi quanto volete, sentite come parlo, cioè, fa ridere. Ah, ok, Comunque, niente, il fuori salone è il momento top dell'anno. No, per me è bandito assolutamente, io non ne voglio dire. Più della fiera dell'artigiano, dell'artigiano in fiera? Allora, diciamo che questa è la versione... Quello è chiuso in fiera, però, Questa è la versione primaverile del fastidio e l'artigianato in fiera è la versione invernale. Ah, benissimo, ok. Però il fastidio vero nasce da qua. Ok. Da qua. Chissà se un giorno ti inviteranno ufficialmente al fuori salone. No, non ci andrei mai. Beh, al fuori salone, a un evento al fuori salone ti invitano perché tu sei quella che ha il fastidio. Vado e dico tutto il fastidio che opero. Tutto il tempo così. Sì, sì, allora, che fastidio, stavo per dire una parolaccia, ma dai, ma è possibile, ma cosa vuol dire, tutte le cose così. Va bene, ciao Riby, andiamo con un po' di musica. Ciao, grazie mille.